Piangiamo ancora una volta per delle morti assurde, non si può perdere la vita così mentre si sta compiendo il proprio lavoro. Il senso di Pietano non può fare a meno che ci si chieda e si chiarisca nel più breve tempo possibile cosa è successo e quali siano le responsabilità di questo ennesimo incidente mortale sul lavoro. Le parole pronunciate ieri pomeriggio dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, giungono pochi minuti dopo la tragedia che si è consumata alle 17.50 sulla linea ferrata Gela-Caltanissetta. Sui binari incontrata a Burgio Carrubba al chilometro 257, tre lenzuola bianche coprono i corpi dilaniati di altrettanti dipendenti della rete ferroviaria italiana che si trovavano in quel posto per eseguire dei lavori di manutenzione ed in particolar modo lo scartamento delle rotaie del binario. Sono stati travolti e decapitati da un treno il regionale 12.852 Gela-Caltanissetta partito 13 minuti prima dalla stazione gelese. A bordo della carrozza automotrice che viaggiava a bassa velocità oltre al macchinista c'erano due passeggeri, un uomo e una donna, entrambi rumeni, diretti nel capoluogo Nisseno. Le vittime della tragedia sono Vincenzo Riccobono, 54 anni, di Egrigento, Antonio Laporta, 55 anni, di Porto Empedocle e Luigi Gazziano, 57 anni, di Aragona. Tutti sposati e con figli. Il macchinista non è riuscito a frenare in tempo. Si è trovato i tre lavoratori sui binari subito dopo aver superato una curva cieca che ne ha impedito la visuale. Inoltre, questo è un dato importante al vaglio degli inquirenti, non c'era alcun cartello che segnalasse la presenza dei tre operai. Nessuna delle tre vittime avrebbe udito il sopraggiungere della motrice. Il convoglio, subito dopo aver travolto i tre lavoratori, ha arrestato la sua marcia 200 metri più avanti dal luogo della tragedia. E' stato lo stesso macchinista, con lo suo telefono, a chiamare i soccorsi. Sul posto si sono portati i carabinieri di Gela, titolari dell'indagine, i vigili del fuoco e i volontari del 118. La procura giolese, diretta da Lucielotti, ha fatto sequestrare la scatola nera del treno. La polizia ferroviaria di Caltagirone, invece, ha effettuato i rilievi tecnici. Strazio tra i parenti delle vittime, subito dopo aver appreso la tragica notizia della morte dei propri cari. Vincenzo Riccobono, Antonio Laporta e Luigi Gazziano facevano parte della stessa squadra e lavoravano presso il tronco di Agrigento Bassa. Tanti anni di esperienza alle spalle, difficile pensare, così come sostengono i colleghi, che la squadra di operai che ha perso la vita ieri pomeriggio lavorasse senza alcuna sicurezza. Anzi, probabilmente, pensavano che quei lavori di manutenzione che stavano eseguendo sui binari fossero stati segnalati e che dunque avrebbero potuto lavorare in tutta tranquillità. Ma la morte, inspiegabile e assurda, era dietro la curva. Una curva maledetta.